ciao questo è un nuovo video che solito rifaccio sui film che riesco ad andarmi a recuperare nel guardare che mi sono visto tutti i nomi di dio che ho visto che lo hanno messo adesso sulle solite piattaforme che che come genere tocca al thriller azione come come film anche se come film e delle 2023 lo hanno messo adesso sulle solite piattaforme che ora che essendo come paese di produzione spagnolo ci ha messo un po prima di arrivare qua in italia che in italia è riuscito proprio a 7 a metà settembre del 2023 il proprio il 15 il 15 di settembre in spagna ma ho visto che adesso lo hanno messo sulle solite piattaforme sono sono riuscito a andarmelo a recuperare nel guardare e gli volevo tipo dedicare questo questo video e portarlo sul sul mio canale il canale che come genere può anche magari toccare anche a parte su spaz che come firme anche si dura magari 1 e 45 quasi ho visto che come trama e come genere può piacere a molta gente a gente che come firme è fatto anche bene se anche se è spagnolo come film che come film magari come tra sulla trama parla più che altro di questo è basato magari che dopo un attacco jihadista al aeroporto santi che è un tassista desiderato desideroso di aiutare viene preso in ostaggio da amza l'unico terrorista sopravvissuto che un colpo di scena magari inaspettato inverte i loro ruoli e santi diventa una bomba umana che cammina attraverso il centro di madrid indossando proprio questo giubbotto il solito giubbotto e se si ferma la bomba esplode a che più che altro mai la trama in sede del del film e a questo qua su su questo magari tassista di madrid che sta accompagnando un cliente all'aeroporto quando assiste a una a una violenta esplosione che salva un giovane che si rivela essere uno dei tre terroristi e si ha preso preso di nostalgio nel come si dice nel suo nel suo taxi che più che altro morai la trama in sede del del film e a questa qua basato su questo uomo con questo giubbotto esplosivo che cammina lungo la gran via a madrid che di questo santi che faceva magari il taxista che come vi stavo dicendo prima che dopo aver soccorso soccorso all'aeroporto uno dei feriti di un attacco giardista scopre in realtà di aver salvato non un semplice civile ma uno dei tre terroristi che l'unico sopravvissuto si ritrova così in ostaggio di amza un giovane che santi scopre in crisi e poco determinato ad uccidere per la sua causa che fa magari fra i due si apre il dia il dialogo ma all'arrivo dei mandanti dell'attentato fa partecipare più che altro mare la situazione che la trama trama in in sé ea come si dice ea questa qua che a parte della regia il regista di questo film e questo daniel calpa calparso che solito magari anche se spagnolo come film e ho visto che come trama come fatto il film e merita che sicuramente può prendere come tipo di film può prendere molte persone perché per il tipo mai di gene che è la trama che ha che può piacere può piacere che sicuramente è uno di quei film magari da da consigliare dopo a chi piace magari questi film magari come si dice come ho detto come ho detto prima chi piace questi tipo di filmazione drammatico thriller può magari sicuramente ma è proprio c'è dopo logicamente può andare magari anche può andare magari anche a gusti e altro la trama in sé del film e questo qualche come al solito vi lascio sempre sotto in in descrizione tutte le informazioni in descrizione tutte le informazioni che riesco a trovare sul film e tra il video trailer il cast degli attori e proprio e anche magari proprio anche la trama se riesco a trovare qualche altra informazione in più trovate come stavo dicendo trovate tutto sotto in in descrizione che visto che l'avevano messo sulle solite piattaforme sono riuscito ad andarmelo a recuperare nel guardare li volevo dedicare questo video e portarlo sul mio canale e niente che quello che poterò dire sul film su questo film l'ho già detta che è un film spagnolo che su certe piattaforme che su certe marei piattaforme come film ho visto che hanno delle tipo lo lasciano disponibile per un po' di tempo dopo lo tolgono però è ancora come film è ancora disponibile e niente che quello che poterò dire su questo film l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao